Quindicesimo appuntamento radiofonico settimanale del 2022 con la voce al sindaco, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica, in cui il primo cittadino pozzallese, Roberto Ammatuna, discute al microfono del nostro direttore responsabile, Piero Giunta, sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, oltre a fare come sempre il preciso e puntuale punto e informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 a Pozzallo, alla voce al sindaco parla del porto di Pozzallo e del problema dragaggio del porto piccolo. Inoltre il primo cittadino pozzallese riflette sull'inaugurazione del nuovo parco giochi della piazzetta Don Mosco e sull'inizio dei lavori di ristrutturazione e arredo dell'asilo nido. Ascoltiamo Roberto Ammatuna. Quindicesima nostra chiacchierata del martedì sul Radio Dimensione Musica con la voce al sindaco e come al solito le chiedo sindaco Ammatuna di commentare i dati dei casi Covid in città e di dare a voce alta le sue raccomandazioni. Sindaco. I casi Covid sono in continua diminuzione, però è il salto che fa scendere questi casi positivi nel senso che abbiamo più negativizzazione che nuovi contagi. E purtuttavia però i contagi sono ancora abbastanza e non ci lasciano assolutamente tranquillo. Però ecco complessivamente possiamo dire che da una settimana a questa parte i casi positivi vanno sempre a diminuire, però vanno a diminuire con lentezza. E complessivamente la situazione sanitaria per quanto riguarda la pandemia è una situazione su cui bisogna stare attenti, però è una situazione assolutamente tranquilla. Non ci sono casi gravi, non ci sono casi particolari e quindi ci muoviamo in linea con quella che è la situazione siciliana e italiana. Nel senso che abbiamo parecchi contagi, però con soggetti che poi hanno delle manifestazioni cliniche non molto importanti e non molto eclatanti. Noi guardiamo con molto ottimismo le prossime settimane, i prossimi mesi perché vogliamo continuare a rivivere un po' quello che si era vissuto da un paio di anni fa a Pozzallo, soprattutto nella stagione primaverile ed estiva. Tendei che abbiamo organizzato parecchie iniziative, parecchie manifestazioni, le più importanti delle quali sono state organizzate tra la fine di aprile e il primo di maggio. È un segno, come dire, sempre di speranza. Noi guardiamo con ottimismo ai prossimi mesi. La pandemia in questo momento pare che abbia subito un rallentamento, lo dimostrano anche i ricoveri ospedalieri. che non sono eccessivi, quindi le strutture ospedaliere non sono sotto pressione. Una situazione su cui bisogna stare attenti, che però è di grande tranquillità in questo momento. Sindaco, parliamo di politica pozzallese, come a me piace definirla, quella in carne ed ossa, quella che sta ressente tutti i giorni, le scale di Palazzo Lapira, quella che ragione riflette per trovare soluzioni ai tanti problemi di questa città. Parliamo del porto di Pozzallo. Al centro della riflessione politica di questi giorni c'è il problema annoso del dragaggio del Porto Piccolo, che mette in feria difficoltà i pescatori pozzallesi. Lei cosa mi dice, Sindaco? Il problema del dragaggio del Porto Piccolo è una grande questione che si ripresenta puntualmente ogni stagione estiva. Per il gioco delle correnti è normale e inevitabile che ci sia un insabbiamento. Noi abbiamo impostato una strategia più a lunga scadenza per eliminare alla radice questo problema dell'insabbiamento del Porto Piccolo e lo stiamo facendo con un progetto di messa in sicurezza di 40 milioni di euro, di messa in sicurezza di tutta la struttura portuale, perché non si insabbia solo il Porto Piccolo, ma i fontali del Porto Grande vanno sempre a diminuire. Tutto si risolverà fra un paio d'anni quando sarà realizzato e costruito l'antimorale di sottoflutto che parte da sotto il castello di Di Martino e protegge dall'insabbiamento tutta la struttura portuale. Ci sono stati dei ritardi nel passato, ci sono stati dieci anni in cui non si è fatto nessun passo in avanti per la preparazione di un progetto. Come è noto noi per la prima volta da 30 anni a questa parte abbiamo ottenuto un finanziamento di un milione di euro per la progettazione che è pronta e pensiamo che nel giro di qualche settimana sarà inviata al Ministero a Roma per la valutazione di impatto ambientale. Questa è una strategia più a lungo termine. Poi abbiamo una strategia più a medio termine. Abbiamo ottenuto 4 milioni e 100 mila euro di finanziamento per l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione per lo smaltimento dei rifiuti fognari e anche per il dragaggio stesso. Quindi con queste 4 milioni e 100 milioni e fra qualche mese ancora inizierà un'altra operazione di dragaggio del Porto Piccolo. Poi c'è una situazione immediata. La situazione immediata è quella di, urgentemente, nel giro di pochi giorni, di eseguire il dragaggio del Porto Piccolo. Io ho preteso in tutti gli incontri con la Regione, con l'assessore, con il direttore generale, con l'ingegnere responsabile del servizio 8 e con il progettista che il dragaggio si facesse il più presto possibile. Fino a 3-4 giorni fa abbiamo avuto dei contrasti molto forti con la Regione perché loro volevano portare avanti un meccanismo che faceva perdere tempo. Io ho preteso che ci fosse una sommorgenza e finalmente si sono convinti. Due-tre giorni fa sono state impegnate già le somme di 250 mila euro e soprattutto è stata preparata una sommorgenza. Abbiamo qualche problema di reperimento delle ditte specialistiche che eseguono il dragaggio. Io, così, consultando anche gli operatori portuali, i pescatori, i diportisti, ho dato anche io dei numeri di telefono di alcune ditte in quanto non si farà una gara di appalto ma ci sarà un vero e proprio affidamento. Io spero che nel giro di questa settimana si possano affidare questi lavori a una ditta e quindi i lavori del dragaggio e del porto piccolo possano iniziare il più presto possibile. Quindi per ricapitolare, che forse sono stato troppo lungo, abbiamo una strategia più a lungo termine, una strategia a medio termine, una strategia immediata, tant'è che è stata preparata una sommorgenza. E ripeto ancora una volta, non voglio essere polemico, non si possono perdere anni senza fare nulla perché poi si pagano questo tipo di conseguenze. Noi ci siamo sbracciati, abbiamo lavorato tanto, abbiamo ottenuto tante milioni di finanziamenti e pensiamo che nel giro di due o tre anni questo tipo di problemi non ci dovrebbero essere più. Negli anni scorsi la città di Pozzallo era un cantiere aperto. Oggi possiamo dire che è il tempo di raccogliere i frutti e cioè di vedere la realizzazione delle opere. È stato inaugurato il nuovo parco giochi della piaffetta Don Bosco e sono iniziati i lavori di ristrutturazione e arredo dell'asilo nido, ricordiamolo finanziato dalla regione ficiliana. Findaco, a lei la riflessione e la parola. Sì, era una promessa che avevamo fatto ai cittadini di quel quartiere che era quella di rendere più usufruibile con un barco giochi la zona antistante della scuola Siamo Amici dove nel 2005 fu installata e collocata una statua di San Giovanni Bosco. Allora io ero sindaco insieme alle suore di Maria Ausiliatrice di Pozzallo con sua Maria Salerno che allora era la direttrice dell'asilo Santino Giunta abbiamo installato questa statua che rappresenta un po' Don Bosco che significa il santo dei giovani. Da allora ad oggi purtroppo questa zona era caduta in abbandono quindi un degrato e quindi su richiesta dei cittadini abbiamo voluto renderla più usufruibile e quindi l'abbiamo valorizzato con questo nuovo parco giochi un parco giochi dove è stata installata una nuova illuminazione è stato rifatto un po' tutto il pavimento è stato sistemato il verde quindi un luogo di aggregazione per tutti i giovani di Piazza Letalia di quella zona ma anche un parco giochi che si trova di fronte alla scuola Siamo Amici e quindi potrà essere usufruito dai bambini e dagli alunni e ragazzi di quella scuola stessa. È importante avere questi luoghi di aggregazione per fare stare insieme i giovani e quindi farlo incontrare e discutere su valori sani e su principi assolutamente corretti. Nello stesso tempo in questi giorni col gruppo Boy Scout di Pozzallo abbiamo affidato alla gestione al gruppo dei Boy Scout di Pozzallo la bambinopole di Ragazzino che già era funzionante ma conoscendo il gruppo dei Boy Scout la renderanno più appetibile, più funzionabile sarà aperta al pubblico. in una zona che si valorizza settimana dopo settimana sempre di più. È stato già terminato il lavoro di arredo del primo stralcio del lungomare di Ragazzino sono in corsi i lavori del secondo stralcio di Ragazzino e la bambinopoli di Ragazzino appunto si trova in questa linea di confine fra queste due stralci fra queste due zone del lungomare di quella zona e quindi stiamo arredando e rendendo usufruibile, più belle, più gradevole l'aspetto urbanistico con queste opere di arredo la nostra città perché siamo ormai in piena stagione primaverile e soprattutto siamo alla vigilia di una stagione estiva che dovrà servire come grande rilancio della nostra Puzzallo. Grazie Sindaco Con la voce al Sindaco appuntamento a martedì prossimo ringrazio Roberto Amatuna Piero Giunta per Radio Dimensione Musica